Nata in un secolo in cui le donne possono aspirare solo a diventare mogli e madri, Elizabeth Cady Stanton fa di tutto per costruire un destino diverso, non solo per sé, ma per tutte le donne. Si sposa e ha dei figli, ma sfrutta la sua istruzione e la sua intelligenza per fondare un movimento che difende i diritti fondamentali delle donne, segnando per sempre la storia del suo paese. Io sono Carmen La Terza e questo è Donne Intrepide, un podcast di Libroza che racconta le storie di donne che hanno superato gli stereotipi del loro tempo, hanno vinto i pregiudizi di genere, hanno sfidato le aspettative della famiglia e della società. Donne più e meno famose, ma sempre donne vere, donne con pregi e difetti, donne che incarnano le contraddizioni dell'epoca in cui vivono, donne a volte difficili, spesso solitarie e controcorrente. E proprio per questo, Donne Intrepide. Elizabeth Cady nasce vicino a New York il 12 novembre 1815. La sua è una famiglia benestante. Il padre, Daniel, è un avvocato che si distingue presto come deputato del congresso, fino ad arrivare con gli anni a ricoprire il ruolo di giudice della Corte Suprema. La madre, Margaret, è una donna bellissima, alta, dai lineamenti nordici, discendente di coloni olandesi. La famiglia, nonostante viva al nord e sia di idee progressiste, ha anche diversi schiavi. La guada di secessione è ancora di là da venire ed è normale per le famiglie borghesi possedere schiavi domestici, che si prendono cura della casa e dei bambini. Nonostante una vita apparentemente privilegiata, l'infanzia di Elizabeth non è felice. Lei è l'ottava di ben undici figli, ma presto tutti e sette i figli maschi dei Cady vengono a mancare. Sopravvivono solo le quattro femmine. La madre è completamente distrutta da questi lutti. Si chiude sempre più in se stessa, è silenziosa e distante. Oggi diremmo che la donna cade in una profonda depressione, ma nella prima metà dell'Ottocento, quando la morte dei bambini è all'ordine del giorno e la conoscenza della psiche, soprattutto di quella femminile, è pressoché nulla, nessuno può aiutare Margaret né le sue figlie, che si ritrovano di fatto senza una madre. Ad accudire le ragazze ci pensa la sorella più grande, Troy Fina, che è già sposata, aiutata dagli schiavi di casa. In particolare da Peter, che gioca con le bambine e le assiste nei compiti quotidiani. Di domenica, quando vanno in chiesa, Elizabeth e le sue sorelle preferiscono sedersi negli ultimi banchi, con Peter e la servitù di colore, piuttosto che davanti, insieme alle famiglie bianche. Elizabeth, che diventerà presto una grande sostenitrice dell'abolizione della schiavitù, ricorderà sempre con affetto lo schiavo che si è preso cura di lei nel periodo più buio per la sua famiglia. Oltre a Traifina e a Peter, ovviamente c'è anche il padre Daniel. Elizabeth passa molte ore nel suo studio, affascinata dai grandi volumi rilegati in pelle. Lì si appassiona alla giudisprudenza e rimane colpita dal diverso trattamento che le leggi prevedono per le donne e le persone di colore. Elizabeth arriva presto a discutere con il padre dei suoi casi. Lui la incoraggia, colpito dal precoce talento della figlia. Ma anche Daniel è prostrato dalla perdita dei figli e un giorno si rivolge a Elizabeth dicendole «Oh figlia mia, come vorrei che tu fossi un maschio!». Forse Daniel intende dire che anche lui vorrebbe che sua figlia, con una mente così brillante, avesse le stesse possibilità dei ragazzi. Ma Elizabeth resta profondamente colpita da questa frase. Crede che suo padre giudichi una sfortuna l'essere nata donna e da quel momento agisce spinta dal desiderio di dimostrargli che si sbaglia. Elizabeth è portata per gli studi, così il padre le concede di ricevere un'istruzione pubblica e formale, non solo domestica. La iscrive quindi alla Johnstow Academy, una scuola mista per ragazzi e ragazze, dove lei è l'unica donna a seguire i corsi di lingue e matematica. Parallellamente a casa è aiutata da un reverendo, un ex istitutore di famiglia, che la incoraggia nello studio e la prepara in greco e in oratoria. Sono due materie molto comuni nell'istruzione delle ragazze di buona famiglia, ma che le torneranno molto utili negli anni a venire. Quando Elizabeth si diploma vorrebbe andare al college e studiare legge, tanto più che ormai suo padre le permette di partecipare alle riunioni di lavoro insieme ai giovani avvocati che lavorano alle sue dipendenze. Ma nessuna facoltà di legge accetta studentesse e allora Elizabeth ripiega sul seminario femminile di Troy a New York, probabilmente perché è diretto da una famosa attivista per i diritti civili, Emma Weillard. Elizabeth è una giovane donna, ricca e istruita, e chiunque vorrebbe sposarla. E infatti non passa molto tempo che un giovane avvocato si innamora di lei. Elizabeth conosce Henry Stanton durante gli incontri di una associazione abolizionista, il Movimento per i diritti degli schiavi, e anche lei si innamora di lui. Daniel Cady invece non è molto contento della scelta di sua figlia, che potrebbe aspirare a un partito ben migliore, ma Elizabeth è irremovibile. Se si sposerà, sarà solo con Henry e con nessun altro. Il padre, a malincuore, acconsente, purché il genero inizi a lavorare per lui e si costruisca una posizione. Elizabeth accetta quindi la proposta di Henry, ma si ricorda bene quello che ha letto nei libri di suo padre, e cioè che una donna con il matrimonio diventa quasi proprietà legale del marito. Così lei impone di escludere dalla formula dei riti nuziali la frase prometto di ubbidire, perché lei non ubbidirà passivamente a nessuno. Decide inoltre di conservare il proprio cognome insieme alla propria identità. Non diventerà quindi, come per tutte le donne sposate, la signora Stanton. Lei sarà Elizabeth Cady Stanton, e con questo nome si firmerà sempre. Il matrimonio di Elizabeth e Henry è felice, presto allietato dalla nascita di molti bambini. Ma Elizabeth non riesce a sopportare una vita quasi del tutto chiusa in casa, mentre il marito viaggia per il paese da un congresso all'altro. All'epoca si crede che le donne siano moralmente più deboli degli uomini, che siano più esposte al male e alle tentazioni del mondo, e che quindi abbiano bisogno della tutela di un maschio che le protegga. È lo stesso pensiero che giustifica la schiavitù. Le persone di colore sono considerate moralmente e intellettivamente meno sviluppate dei bianchi. Che ne sarebbe di loro se non avessero un padrone? Elizabeth così unisce la lotta abolizionista a quella per i diritti delle donne, diritti civili, ma anche politici, sociali ed economici, e soprattutto diritti legali, perché Elizabeth sa bene che non esiste una vera libertà se non è tutelata dalla legge. La legge dell'epoca prevede che una donna non può votare, non può accedere all'istruzione universitaria e quindi alla maggior parte delle professioni o alle cariche politiche. Quando si sposa, fonde la propria identità con quella del marito, diventa priva di personalità giuridica. Non può possedere beni propri, stipulare contratti, fare testamento, citare o essere citata in giudizio. La donna è considerata un minore a tutti gli effetti, non può agire indipendentemente, ma solo sotto la tutela e il consenso del coniuge e se decide di divorziare perde l'affidamento dei figli. Ebbene, Elizabeth decide di battersi contro tutto questo. Nel 1840 Elizabeth incontra a Londra Lucrezia Mott, una famosa attivista abolizionista, durante la conferenza mondiale contro la schiavitù. I delegati uomini si dichiarano contrari alla partecipazione femminile ai lavori. Le donne potranno solo assistere in galleria debitamente nascoste dalle tende. Per Elizabeth è molto più che un insulto, è semplicemente inaccettabile. Fin da bambina, lei si è espressa contro la schiavitù e si ricorda ancora le cure di Peter, che tanto l'hanno confortata quando sua madre era caduta in depressione. Elizabeth e Lucrezia protestano vivacemente, senza successo, ma quando tornano in patria riuniscono intorno a loro un gruppo di attiviste che diventano il cuore del movimento statunitense per i diritti delle donne. Il movimento femminista americano affonda quindi le sue radici nel movimento abolizionista, all'interno del quale le donne diventano consapevoli dei diritti umani, elaborano i concetti di uguaglianza e di libertà, acquisiscono il linguaggio giuridico e imparano poi ad applicare tutto questo nella lotta per la conquista dei propri diritti. Il 19 e 20 luglio 1848, a Seneca Falls, nella cittadina dove vive la famiglia Stanton, Elizabeth e le sue compagne organizzano la prima conferenza sui diritti delle donne, alla quale partecipano più di 300 donne e durante la quale Elizabeth pronuncia uno dei suoi discorsi più celebri, la Dichiarazione dei Sentimenti, modellata sulla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 1776. Nella Dichiarazione dei Sentimenti Elizabeth afferma Noi riteniamo per certo che le seguenti verità siano di per sé evidenti, che tutti gli uomini e le donne sono stati creati uguali, che sono stati loro attribuiti dal Creatore certi diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Elizabeth sostiene l'uguaglianza giuridica tra uomini e donne, ma anche l'uguaglianza domestica, l'importanza dell'educazione sessuale e del controllo delle nascite, perché sa bene che per le donne non può esistere una vera libertà finché il peso di famiglie, sempre numerosissime, graverà solo sulle loro spalle. La Dichiarazione dei Sentimenti diventa un vero e proprio manifesto e programma politico per tutto il movimento e viene firmato da 32 uomini e 68 donne. Basandosi sulla teoria dei diritti naturali inalienabili dell'individuo e sul principio No Taxation Without Representation, nessuna tassazione senza rappresentanza, che era stato lo slogan politico con cui gli Stati Uniti si erano ribellati all'Inghilterra e avevano conquistato l'indipendenza. La Dichiarazione dei Sentimenti propone come obiettivo principale da raggiungere il suffragio femminile, primo elemento che possa rimettere in discussione la relazione asimmetrica tra uomo e donna. Alla conferenza di Seneca Falls Elisabeth conosce Susan Anthony, una giovane attivista che diventa presto la sua più stretta collaboratrice. Susan infatti è nubile, può viaggiare senza il pensiero di lasciare i bambini a casa. E così Elisabeth scrive i discorsi per lei, mentre Susan gira per tutto il paese per promuovere l'Associazione per il suffragio delle donne, un'associazione da loro fondata che promuove il diritto di voto per le donne, prima chiave per modificare la condizione giuridica femminile. Tuttavia in quegli anni, alla vigilia della sanguinosa guerra civile, tutta l'attenzione del dibattito pubblico negli Stati Uniti è concentrata sui diritti delle persone di colore e spesso i componenti stessi del movimento abolizionista prendono le distanze dalle rivendicazioni delle donne, perché temono che aprire il discorso alla questione femminile possa distogliere l'attenzione dalla causa antischiavista. Elisabeth, che è sempre stata un'abolizionista, entra in crisi con i suoi stessi principi. Com'è possibile che vengano riconosciuti prima i diritti degli uomini neri, molto spesso poco istruiti e manipolabili, per lasciare fuori le donne? Nel 1869, insieme a Susan Anthony e a Matilda Joslin Gage, Elisabeth Caddy Stanton fonda l'Associazione Nazionale per il Voto delle Donne e continua a battersi per quello che continua a ritenere l'obiettivo più importante. In uno dei suoi discorsi più accorati, dichiara compassione. Sono contraria al dominio di un sesso sull'altro. Questo dominio coltiva l'arroganza nell'uno e distrugge il rispetto di sé nell'altro. Sono contraria all'ammissione anche di un solo altro uomo, straniero o nativo che sia, al seggio elettorale, fino a quando la donna, il più grande fattore di civiltà, non sia prima emancipata. Negli anni successivi, Elisabeth continua a battersi per il diritto di voto, tenendo conferenze e organizzando il movimento in diversi stati. E seppure l'obiettivo resta lontano, Elisabeth ha però la gioia di veder crescere esponenzialmente la consapevolezza delle donne intorno a lei. Le manifestazioni sono sempre più seguite, l'etichetta di suffragetta è considerata un segno di onore per moltissime donne e tante di loro non hanno paura né del biasimo dei loro mariti né delle violenze della polizia. Per rendere conto di tutto il cammino fatto, nel 1880 Elisabeth lavora con Susan e Matilda alla Storia del Suffragio Femminile, una monumentale opera in tre volumi dedicati alla storia del movimento femminista americano e ai traguardi raggiunti nella rivendicazione dei diritti civili, politici ed economico-sociali. Tra il 1895 e il 1898, con un comitato di altre 26 donne, Elisabeth scrive La Bibbia della Donna, un saggio in cui le sacre scritture vengono interpretate dal punto di vista femminile. Il libro, che diventa ben presto un best-seller, contesta la posizione tradizionale della Chiesa, che sancisce la subordinazione della donna all'uomo e afferma la necessità di un senso morale laico basato sulla logica e sull'etica personale. Elisabeth Cady Stanton lavora indefessamente fino all'ultimo, senza però riuscire a vedere realizzato il suo sogno. Muore infatti a New York il 26 ottobre 1902, poco prima di compiere 87 anni. Solo nel 1920, 18 anni dopo la sua morte, viene approvato negli Stati Uniti il suffragio femminile per cui lei si è tanto battuta. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donne Intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida!